Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come nascondere tutti i file di una estensione. Per nascondere i file in Windows 10 è molto semplice, come sapete basta andare su una cartella, cliccare su visualizza e poi su elementi nascosti per mostrare appunto gli elementi. Per nasconderli tasto destro proprietà nascosto. La procedura è veramente molto semplice. Ma in questo video invece vi spiegherò come nascondere ad esempio tutti i file zip o tutti i file RAR e così via dicendo in Windows 10. Per prima cosa andate nella barra di start e digitate opzioni di indicizzazione oppure premete Windows S sulla tastiera e poi digitate appunto opzioni di indicizzazione. Qui andate su avanzate, tipi di file e qui avete tutte le estensioni diciamo che utilizzate nel computer come zip, RAR eccetera eccetera. Quindi togliendo ad esempio la spunta a una estensione di questo tipo, tipo zip, cliccando su ok tutti i file zip scompariranno automaticamente dal sistema. Cioè scompariranno. Saranno resi diciamo invisibili. Quindi magari se volete nascondere un certo tipo di file perché magari non vi interessa e non volete averlo tra i piedi ecco questa è la procedura. Poi qui ovviamente potete anche aggiungere una nuova estensione che non è presente nell'elenco e così via dicendo. Quindi cliccate su ok e poi diciamo su chiudi per apportare le modifiche.